Il circolo di Palagiano di Lega Ambiente chiede un incontro urgente con il prefetto di Taranto, un incontro per denunciare lo stato di illegalità relativo alla mancata ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato che già nel febbraio 2013 disponeva definitivamente l'acquisizione del villaggio Pino di Lenne al patrimonio indisponibile del Comune, accertando la Corte che il villaggio in questione è stato realizzato abusivamente e predisponendo che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa. Ma finora, a distanza di 18 mesi, nulla è accaduto, denuncia Lega Ambiente. La prescrizione è quella di delimitare l'area di Pineta abusivamente occupata, prosegue il presidente del circolo Preneste Ansolin, e di procedere al ripristino dello stato primitivo dei luoghi attraverso l'abbattimento di tutti i fabbricati del villaggio. Nulla si è mosso invece in barba alla sentenza e dalla legalità. Al fianco del circolo di Lega Ambiente di Palagiano si schiera il comitato regionale pugliese dell'associazione, evidenziando che tra l'altro l'area in questione è sottoposta a plurimi vincoli di tutela ambientale e rappresenta un eccezionale patrimonio naturalistico e pasiaggistico del territorio. Lega Ambiente chiede al prefetto di Taranto di intervenire immediatamente adottando tutti i provvedimenti di competenza per il ripristino della legalità.